Buongiorno a tutti vicini e lontani, carissimi amici. Dopo tanto tempo ho aspettato un bel che vado a vedere il museo della cantieristica e della terza volta che vado. Quello è normale che posso andare a visitare, ma il cantiere una volta al mese fanno i pulmini e vanno a vedere il cantiere. Mi ricordo, ora sono diciattene, sono andato a fare lo stage qui in cantiere, ho lavorato nei vari reparti produttivi del cantiere. Mi ricordo c'era mio zio Sergio, il fratello di mia madre Vittoria che lavorava, c'erano i signori sui vicini che devono mangiare a me da giovane di crescere. Tanti non ci sono più, ho comprato il mio zio. Non vedo l'ora di entrare, c'era il mio zio. Purtroppo non si può fare foto né video, come youtuber che sono. Sarà la foto fuori del boom assolutamente, vediamo. E che dire come dico sempre. E' un piccolo in considerazione qui il paese dei gatti. Tant'anno erano pieni di coglioni e filine. Purtroppo o morti o portati via. Ciao Paolo, benvenuto. Ciao Gaia, benvenuta. Ci ti auguro una buona giornata. E beh, forza il coraggio, andiamo avanti. I ricordi, si veniva in bicicletta, il stage, per l'Istituto regionale di formazione professionale, Earpop. Ciao Gaia, sono contento che Marco tornare, lunedì rientra a lavorare. Sarà bene a lieto, sono contento che ne è uscito. Ora aspetto qui le 10 con trepidazione. vado a farmi un caffè, il secondo caffè della giornata. Quanti ricordi qua in stage. E boh. Altro lo posso far vedere con le video perché sai, dopo ti prenderò un po' le scatole perché cos'anno là. Già così è abbastanza. Vi auguro una buona giornata. Buon sabato a voi e le nostre famiglie. Mi raccomando Franco, stai tranquillo che andrà tutto bene. Adesso vado a farmi di nuovo un secondo caffè e poi mi leggerò un po' il giornale per somatizzare l'evento. Ecco, adesso, ieri c'era sciopero. Qua sono i saliti imbicilli, che lo vengono nelle scritte degli orari. E vabbè, qua di sciopero non ne hanno che segnato. Ora vado in bar dell'inglese, Bar Universo, faccio un caffè. Se c'è il giornale me lo leggo un pochino e poi mi incammino tanto su due passi da qui dove posso dove andare. Adesso vediamo quando sarà la primavera, se possibile. Vi faccio vedere anche le case. Buonanima a mio padre, Koradov. Era prima cabina 10, dopo il tecista delle case. Un giorno mi sono fermato la casa dei Kozulic, che erano stati fondatori del 1908, un falcone, qua da Cattiana Valle. E guardo quella casa. Allora ho detto, guardi la vostra casa. Guardavo perché ricordo mio padre, buonanima, domenica. Faccevo impianti elettrici con i miei colleghi. Ora vi auguro una buona giornata, buona domenica. Saluto i miei parenti, i miei amici. Noi di loro che arriva le 10. altro che dire, niente. Iscrivetevi al mio canale YouTube, Franco Tondo su YouTube. Iscrivetevi, attivate la campanellina. Saluto Alberto, Marco, Tiziana e tutte le altre persone. Antonella, Sant'Antonella Nardini, Guai Pornos. E' altro che dire niente. Vorrei dire tante cose, ma ti emozioni tanta. Guardi, c'è qualcuno che mi scrive del buongiorno. Amici miei, vi auguro una buona giornata. Faccio ancora vedere il simbolo del Pansan. Ecco, quello è il nostro acquedotto, che era l'acquedotto dell'Africa Antiera. L'ho usato per il Pansan. Ecco qua. Amici miei, vi auguro una buona giornata. Fate i bravi. Fate il movimento. Andate a vedere le attività, le città, i musei, le cose che avevano nelle proprie città. Io vado a vedere da tanto che dicevo di venire a vedere. Sono riuscito ad andarci. Auguro una buona giornata. Grazie che mi guarda. Non ricordo la persona che è in live che mi sta guardando. Spero... Ah, ecco qua, Gabriele. Benvenuta. So che mi guardi silenziosamente. Mi guardi. Ti auguro una buona giornata. Non so cosa dire. Niente, sono felice. Sono felice che da tanto che desideravo visitare il cantiere. Tanto anche se purtroppo, per sicurezza e altre cose, solo quel pulmo. Ma meglio così. Ma già abbastanza va bene. Vi voglio bene. Vi auguro una buona giornata. buona domenica. A voi e le vostre famiglie. Saluto anche a Antonia e a Lucia, Messico e Brasile. E altro che dire niente. Vado a questo bar, vi leggo il giornale e poi me ne vado a vedere il museo. Un bacio, un abbraccio. Grazie del cuoricino che mi ha messo. Vi voglio bene. Non vedo l'ora. Sembro un bimbo che va il primo giorno della scuola. La felicità. Quasi sono i servizi che portano fuori le pulizie. Vi auguro una buona giornata. Un abbraccio e un bacione. Ciao Gabriella. Iscriviti al mio canale YouTube se puoi. Un abbraccio. Vi voglio bene e a presto. Buon fine settimana. Tra poco sarà pubblicato anche questo mio canale YouTube. Un abbraccio. Ciao Gabriella. A tutti voi. Sono qui. Qua ho il sponso Ailos Italia. Mi ha detto di saldatura dove lavoro. Ci tengo le bacchette, saldature, guanti eccetera eccetera. Un abbraccio. Vi ho tre piccoli perché mi sono filiato da un poco. L'oretta. Altro dire niente. Vi auguro una buona giornata. Sono felice. E a presto. Un abbraccio. A presto. Ciao ciao. 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 Ciao.